A Tripalda si arricchisce di un nuovo centro Goldbet, madrina della serata la splendida Elisabetta Gregoracci che ha affascinato tutti i presenti con il suo sorriso da star tra foto e selfie da postare subito sulle pagine Facebook. Sono felice di essere qui ad Avellino, la presentatrice Showgirl e testimonial dei centri Goldbet che ha sottolineato l'importanza di questi centri di aggregazione. Eccomi qua questa sera per farvi compagnia e sono molto contenta, quando ritorno in campagna sono sempre molto felice. Poi lo sport fa sempre bene, sicuramente un punto di ritrovo per tanti amici e per farsi compagnia. Una nuova risorsa ricreativa che attraversa più generazioni, come ha ricordato Gianni Melfi, titolare del Goldbet di A Tripalda. Goldbet propone nel suo format la possibilità di aggregazione dove poter trascorrere del tempo insieme anche semplicemente per assistere agli eventi sportivi mondiali a tutte le ore perché riusciamo a garantire anche una finestra di apertura che va dalle 6 di mattina alle 2 di notte ma ove necessario riusciamo a spingerci anche oltre, nonché proponiamo il massimo delle scommesse con al momento le migliori quote del mercato e per completare il servizio degli ottimi virtual game che sono ritenuti i più belli in assoluto in questo momento sul mercato per finire poi alla fantastica sala slot per fumatori dove c'è vasta scelta per tutti i gusti. La scelta della location è stata strategica, abbiamo pensato a un punto di raccolta che potesse dare sfogo a tutte le esigenze che siano quelle del parcheggio, quelle di un aperitivo quindi un bar tabacchi, infatti noi siamo adiacenti all'Ibisco Caffè un punto di riferimento per A Tripalda molto noto e quindi riteniamo di aver creato una sinergia importante per questa location tutta quindi che va sia per noi, per il bar e non ultimo la ristorazione offerta dal Don Matteo.